Allora oggi andremo a somministrare alle nostre famiglie del candito solido. A questo proposito utilizzeremo dei normalissimi nutritori, quelli che si incastrano sopra il coperchio di legno dell'alveare. Ora dato che somministreremo il candito solido andremo semplicemente a togliere, a utilizzarli senza questo piccolo accessorio che serve invece in caso di somministrazione di alimento liquido. Quindi non faremo altro che aprire il nostro candito e posizionarlo all'interno del nutritore. Richiuderlo, poi per sicurezza come vedrete andremo ad aggiungere due pezzettini di scotch per essere sicuri. Quando vengo dalle apine ho sempre delle valide sostenitrici e accompagnatrici. Le chugul, sempre molto interessate. Andiamo! Uno degli strumenti più importanti per l'apicoltore è l'affumicatore. Affumicatore perché al suo interno dobbiamo accendere il fuoco. In questo caso bruciamo un pezzettino di juta arrotolato, quindi una febbra naturale senza coloranti e che produce un fumo naturale, tra virgolette. Quindi procediamo all'accensione. Eccoci qua, l'affumicatore è acceso. La prima osservazione la possiamo fare da davanti. Adesso il sole è quasi andato via, però possiamo vedere che rientrano api con le borse del polline piene. Quindi ci auspichiamo che comunque le famiglie siano in salute e ci sia covata. Stop! Siamo alla prima cassettina di Alessio. Vi faccio vedere come le apine sono tutte tranquille. Adesso non tengo molto aperto. Daremo da mangiare attraverso il buco presente all'interno del coperchio in legno. Apriamo un po' di fumo per mandare via le solversi e applichiamo il nutritore. Stop! Hanno ben messo propoli, molta, molta propoli all'interno. del buco per coprire le cose. Qui quando si apre sono sempre un po' agitate e allora andiamo a dare del fumo in modo che stiano tutte dentro e noi abbiamo nel tempo la possibilità di applicare tranquillamente il nutritore. A questo punto eccole già sono in arrivo. abbiamo posizionato il nutritore e vediamo che le api sono già entrate all'unza interno e che inizieranno a mangiare. controlleremo poi la settimana prossima se sarà presente ancora del candito. Adesso sull'ultima cassettina di Alessio dobbiamo andare a sostituire il coperchio che Alessio ha provveduto a fare in maniera meravigliosa ed eccellente veramente. Ho costruito da solo questo coperchio che è perfetto. Adesso vediamo se è stato preciso con le misure. Per le cose che gli interessano è sempre stato preciso. Il resto invece è... Allora qui abbiamo una situazione molto anche qui molto molto positiva. Adesso vi faccio vedere da vicino. La famiglia sembrerebbe forte. Adesso la andiamo ad aprire. Eccole qua. Qui è presente naturalmente un escludiregina. lo vedete. Vedete questa cassetta un po' diversa perché è la base del beehive. Cioè il melario che si applica sopra questa cassetta di legno è in realtà di quelli che diciamo corrubi, i famosi corrubinetto. Quindi sarà possibile, diciamo, prendere il miele direttamente dal rubinetto. Quindi noi non facciamo altro che andare a sostituire. Le scludiregine ovviamente non lo possiamo sostituire. La famiglia sta bene. Noi andiamo a sostituire il coperchio. Niente di più e di meno. Anche a loro vi facciamo da mangiare. Quindi tanto per loro. Ecco un po' di pappa. Proviamo l'incastro e chiudiamo. Questo coperchio lo riportiamo in apiario. E dall'apiario e dall'apiare è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao amici. Grazie. 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 Grazie.